Ci siamo, bene, buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati agli amici di Ciao Como, oggi c'è un nuovo confronto con i candidati alla carica di sindaco di Como, li abbiamo invitati tutti e sette, per il momento ce ne sono cinque, ma dovrebbero arrivare anche gli altri due che sono Alessandro Rapinese e Fabio Leotti. Allora li salutiamo subito, innanzitutto Maurizio Traglio, buongiorno, Francesco Scopelliti, Bruno Magatti, Celeste Grossi e Mario Landricina. Sono qua con noi, risponderanno anche alle domande che abbiamo già ricevuto e poi c'è anche la nostra amica Marta che ieri è andata a sentire anche i giovani per capire un po' l'universo giovanile e vi faranno un po' di domande. Chiedi io solo una cortesia a voi candidati, so che in questi giorni siete presissimi e poi vi devo lasciare andare, diamo delle risposte veloci, un minuto a testa e cerchiamo di riassumere un po' tutto, eh, lo so, me ne rendo conto. Ci scrive Silvia su redazione chiaccio alla ciaocomo.it che vi chiede quali sono stati i costi della vostra campagna elettorale. Un minuto a testa, vediamo di essere il più sintetici possibili per dare il maggior numero di risposte. Inizia Mario Landricina. Mario. Per l'intera coalizione adesso siamo sui 20-25 mila euro. Risposta flash, perfetto. Celeste Grossi, quanto hai speso per la tua campagna elettorale? Non abbiamo ancora finito ma sicuramente molto al di sotto dei 10 mila euro. Noi non abbiamo grandi risorse, abbiamo due piccoli partiti di sinistra che sono Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista e poi persone che partecipano come cittadinanza attiva per cui non possiamo fare molto di più. Stiamo cercando di sopperire con una campagna elettorale di manifesti virtuali. Allora Mario Landricina, lo ricordo anche, è il candidato di centrodestra, Fratelli d'Italia. Esatto, vuoi ricordarlo tu Mario? Sì, quattro compagni quindi va ridistribuito sui quattro partecipanti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Nord e lista insieme per Mario Landricina. Ok, Celeste Grossi invece lo vedete la prossima. La prossima. Bruno Magatti invece rappresenta Civitas, ti do il microfono Bruno, quanto hai speso? Allora, non lo so, alla fine abbiamo preventivato 10.000 euro che non spenderemo, però c'è un valore di competenza altissimo. Io sono molto grato alle persone che stanno lavorando con me, giovani e meno giovani, con delle capacità anche professionali straordinarie, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mediatico. Molto bene, bravi con i tempi. Allora, adesso sentiamo Francesco Scopelliti che rappresenta Como Futura e Giovane Como. Francesco, i costi della tua campagna. Beh, noi abbiamo speso quanto Landricina, meno uno zero, non so se conta, vedete voi. Nella sostanza noi abbiamo tanti giovani, ci stanno dando la mano, facciamo una campagna elettorale autofinanziandoci e spendendo veramente poco, come vi ho già detto. Bene, grazie. Allora, Maurizio Traglio, abbiamo detto chi rappresenti. Maurizio Traglio, ricorda anche tu quali sono le liste che ti supportano e i costi della tua campagna. Sono la lista civica, la mia lista civica che rappresento, per cui la svolta civica per Como, poi ci sono gli ecologisti reticologiche, reticologisti Como, con la nostra Patelli come rappresentante, e poi c'è il PD, per cui è una lista di tre rappresentanze politiche, mi sembra anche piuttosto coesa. I costi? Io credo di essere però, per la verità, 15 giorni fa eravamo intorno ai 25 mila euro. Ammetto che non ho un aggiornamento alla data, non mi aspettavo la domanda, sicuramente sarà un tema che poi riprenderemo a fine campagna. Va bene. Molti ragazzi credono di non avere un posto che funga bene per lo studio, in quanto la biblioteca comunale è molto piccola, e quindi chiedono se si possa usare la zona della Ticosa come un centro di ritrovo per gli studenti, che possa essere sia un centro culturale, ma anche dedicato appunto allo studio. Complimenti, bellissima domanda, perché è una suggestione che si è stata presentata dai giovani proprio come necessità di individuare aree al di fuori della biblioteca, che ogni tanto è over nella sua capacità di accogliere gli studenti, potrebbe essere Ticosa, tanto che noi pensiamo a un'area santarella e adiacente, dedicata proprio all'università, per cui anche a luoghi di riunione per studio. Mi sembra più facile e più rapido destinare forse qualcosa di diverso. Ci sono delle unità che oggi non vengono impiegate dal Comune, noi intendiamo censirle correttamente e fare dei centri d'aggregazione dove gli studenti possono andare a studiare, possono anche ritrovarsi in termini associativi. Probabilmente una di queste aree, potrebbe essere addirittura Villa Olmo, è un tema assolutamente di grande attualità che conosciamo. Sì, noi abbiamo già nel nostro programma di inserire le biblioteche in ogni quartiere della città, riteniamo che la biblioteca attualmente non funzioni bene, c'è poca attenzione nei confronti dei giovani, c'è forse più attenzione nei confronti di chi magari è un senza tetto, però non si possono coniugare sempre le due cose, perché chi ci rimette in questo caso sono i giovani purtroppo, quindi ci sono veramente molti disservizi. Ticosa Santarella potrebbe essere un'occasione, ma io lancio, se fosse possibile avere San Martino in dotazione come Comune, una cittadella del divertimento e della cultura a San Martino stesso e quindi con una biblioteca veramente grande da poter utilizzare insieme a tutto il parco. Ho in mente la città dove ho studiato, Pavia, che era una città universitaria in cui la presenza giovanile era assolutamente prevalente e determinante il clima. Dopo che è stata innestata l'Università Como, io ho sempre immaginato che la presenza di un mondo studentesco potesse essere capace di far diventare anche la nostra città un luogo dei giovani, un luogo dove ci si viene a studiare, dove ci sta con piacere. E questa esperienza che noi abbiamo della biblioteca come luogo di aggregazione, come unico luogo di aggregazione, credo che sia assolutamente un'intuizione da far crescere. Dove e in quali luoghi? Io credo prima di tutto, riaprendo il dialogo da parte dell'amministrazione con l'Università. Oggi l'Università è una sorta di corpo estraneo che vive un mondo parallelo, i giovani ancora non interagiscono con le amministrazioni, credo che ci sia cammino da fare. Il problema non è il problema degli spazi, il problema è la volontà e il disegno di città che si ha in mente. Allora, nella nostra lista abbiamo un ragazzo molto giovane, a 19 anni, si chiama Lorenzo Baldino, è un esempio per molti giovani della città, presidente della consulta degli studenti. Lui e gli attivisti che insieme a lui ci stanno supportando ci dicono che c'è un grosso problema di spazio, sia per gli studenti universitari, come ha già detto giustamente Bruno Magatti che mi ha preceduto, ma c'è un problema di spazio anche per gli studenti più giovani, perché i giovani non devono essere visti come cittadini in transito verso il futuro, i giovani sono cittadini del presente. Molti luoghi diffusi, non solo per lo studio, ma anche per aggregarsi, luoghi sani, abbiamo molti spazi comunali che possono essere utilizzati per questo. Voglio soltanto ricordare che accanto alla biblioteca c'era stata la possibilità, parecchi anni fa, di prendere uno spazio e che questo spazio era stato ritenuto inutile in quel momento. Forse sarebbe stato opportuno. Questo è assolutamente incoraggiante. I quartieri nelle varie visitazioni di questo periodo hanno espresso analoga istanza, faccio un nome per tutti, Civiglio, perché è uno di quelli che ho visto più prima, chiedono di utilizzare gli spazi pubblici, si rendono disponibili i ragazzi, quindi nell'ambito delle organizzazioni di quartiere, a rendere accessibili e vivibili questi ambienti, bisognerà sostenerli. Sulla Ticosa credo che a breve nessuno possa fare conto, abbiamo già detto tutti insieme le nostre idee su quell'area, personalmente sulla Santarella vedo più una soluzione indirizzata ai problemi dell'università. Invece sono d'accordo sulla tesi del San Martino, anche se è tutta da costruire, perché è un'area regionale, non si può certo pensarla in disponibilità immediata dell'amministrazione, perché lì si potrebbe accogliere non solo gli ambienti, in particolare per lo studio, ma anche per la musica, ma anche per lo stare insieme, oltre che per un'infinità di altre suzioni. Martina ci chiede, che cosa pensate di fare in dettaglio riguardo alla sicurezza di Como? Punto uno del nostro programma, argomento molto sentito, ci sono parecchie idee che abbiamo sviluppato, che non riguardano semplicemente la valorizzazione della Polizia Locale, ma l'interconnessione, la gestione coordinata con le altre forze di polizia, contrasto a qualsiasi cosa sia fuori dalle norme e dalle regole, dai piccoli eventi come possono sembrare in realtà molto disturbanti, della cartonaggio molesto, del disturbo ai commercianti e di tutto quello che ne deriva, ai grandi fenomeni facendo diventare cittadini partecipativi, non di un sistema di negoziazione nascosta delle informazioni, ma di una partecipazione attiva alla gestione della legalità e della sicurezza della città. La sicurezza per noi è soprattutto coesione sociale, quindi bisogna prevenire e non solo affidarsi ai controlli quando piccoli episodi di microcriminalità vengono agiti. E quindi per noi essere sicuri vuol dire avere degli spazi in ogni quartiere a disposizione della cittadinanza giovane, anziana e di tutte le età dove le persone possano incontrarsi in modo sano e soprattutto fare in modo che le persone abbiano un lavoro, che siano tutelate nella loro dignità e che non abbiano bisogno né di chiedere l'elemosina e né di essere costretti a piccoli crimini per sopravvivere. Quindi per noi la sicurezza è un tema importantissimo, è il futuro di questa città e bisogna fare in modo che la città sia sicura perché coesa e solidale. Allora, molto d'accordo con quello che ha detto Celeste, naturalmente la sicurezza è un fatto ovviamente di qualità della vita di tutti. Voi sapete che tra l'altro adesso ci sono dei decreti che proprio sono orientati a dare ai sindaci un extra potere in vista di questo, ma non da sé in relazione al sistema che è fatto ovviamente dalla Prefettura, dalla Questura. I territori vanno evidentemente presidiati nel senso che le persone devono avere la percezione che qualcuno pensa a loro e li tutela. Però questa percezione che oggi non hanno e che deve essere invece resa più forte non va in conflitto con quello che diceva Celeste prima, ma anzi direi che si coniuga con quello. Io ho fatto per cinque anni l'assessorato delle politiche sociali e vi dico davvero che la grande preoccupazione è chi scivola nella marginalità. A questo punto non avendo un lavoro la sicurezza e la casa rischia davvero di essere richiamato da mondi che possono poi diventare quelli che lo portano alla criminalità. Questo è un tema delicatissimo, va affrontato con coraggio, anche con grandi investimenti e soprattutto costituire una comunità coesa. In dieci anni di assessorato penso di aver sviluppato una grossa esperienza. Io direi che non mi trovo d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto prima, Celeste Grossi e Bruno Magatti. Io penso che prima di tutto ci voglia il rispetto dei diritti, dei diritti dei cittadini e delle persone. Se noi partiamo da questo presupposto poi possiamo ragionare su tutto il resto. Spesso invece andiamo a fare del buonismo, dei ragionamenti che non vanno a tutela dei cittadini, ma vogliono tutelare in qualche modo o giustificare alcuni atteggiamenti che comunque non sono giustificabili. Quindi comunque io sono l'assessore che ha messo le telecamere a Como, sono il primo assessore a sicurezza di questo, me ne vanto sempre perché è una delle cose che mi sta più a cuore, ribadire. E sostanzialmente io l'unica cosa che potrei fare come sindaco è quello di maggiormente rappresentare i vigili di quartiere e la polizia locale tutta, motivandola ancora di più perché in questi ultimi anni l'impressione è che invece si è lasciato un po', come posso dire, il colpo dei vigili un po' si è lasciato andare, non si è dato veramente un grosso risalto alla loro attività. Sì, allora sicurezza non è solo, è anche quella percepita, se un cittadino non si sente sicuro, se una ragazza non si sente sicura quando esce di casa, se i giovani chiedono, come mi hanno chiesto, dalle vecchie aggregazioni sicuri, significa che questo è un problema che dobbiamo considerare. Noi abbiamo immaginato un altro progetto, abbiamo immaginato di implementare ulteriormente la sorveglianza elettronica del territorio, che rende poi un'informazione a tutte le altre forze dell'ordine e abbiamo parlato con le associazioni degli escorpi d'arma, abbiamo parlato con i carabinieri, soprattutto con loro, loro ex carabinieri sono disponibili a offrire il loro supporto fuori dalle scuole o alla sera nei pattugliamenti proprio per fare in modo che ci siano dei deterrenti alla microcriminalità. Certamente poi l'elemento facilitatore del Comune deve essere comunque un Comune che facilita tutto ciò che sono le buone cose, tutte quelle che sono appunto sistemi di accoglienza che limitino i soggetti che vogliono andare verso un tema criminale. Allora, i giovani chiedono anche di organizzare magari più eventi sfruttando il nostro territorio, che comunque è bellissimo, e per fare questo si potrebbero sistemare quelle che sono le paratie e oltre a questo garantire un maggior svolgimento di quelli che sono i servizi pubblici, perché soprattutto per chi viene da lontano è sempre difficile tornare a casa con i mezzi pubblici quando non si ha la macchina. Stante che le paratie sono un tema adesso di carattere regionale, per cui noi saremo buoni sorveglianti affinché la Regione faccia fino in fondo quello che si è impegnata a fare. Detto ciò, noi abbiamo pensato proprio per gli eventi di avere il lago come protagonista e ci siamo riferiti nel nostro progetto al lago di Costanza. Sul lago di Costanza a Bregenz ci sono delle magnifiche manifestazioni di ogni natura, per cui parliamo di ballo, canto, teatro, eventi che vengono fatti su piattaforme galleggianti e ci siamo immaginati che il primo bacino di Como potrebbe accogliere questi eventi meravigliosi che avrebbero anche un costo di struttura molto modesto. Abbiamo visto a Bregenz hanno un successo strepitoso e molto trasversale dai giovani ai meno giovani perché quando una cosa è bella è bella per tutti. Sostanzialmente io ricordo che noi siamo gli unici in tutte le campagne elettorali negli ultimi 50 anni ad aver pensato a una lista che si chiama Giovane Como e che viene rappresentata esclusivamente da giovani dai 20 ai 33 anni. E di questo ne andiamo fieri perché è come cercare di avvicinare sempre di più i giovani anche alla politica. È ovvio, è giusto che i giovani ci chiedono anche di divertirsi, di poter divertirsi in pace, in sicurezza soprattutto, ed è ovvio che questo è un sentire comune che ho già raccolto. Noi abbiamo pensato che il primo passo, oltre a mettere tre giovani come assessori in comune eventualmente, qualora dovessi vincere, l'altro passo è fare una consulta che non è la solita consulta dove il potere politico dice ai ragazzi cosa devono fare. È il contrario, una fase da scolto dove devono essere i ragazzi a dirci come e dove si vogliono divertire. Io in questo col turismo l'ho fatto tanto, Giardini al Lago per esempio, tra il Monumento Caduti e il Tempo Voltiano, è uno spazio veramente dove ci sia, possa essere tanto divertimento per i ragazzi. Le esperienze di Wow degli anni passati hanno dimostrato che c'è una capacità anche di immaginare creatività e spazi dai giovani e per i giovani, però mi pare che la parte della domanda più interessante fosse l'altra, non perché questa cosa, cioè come fai a raggiungere la città, come fai ad andartene, io ho una festa che finisce a 1 di notte, a 2 di notte, come me ne torno a casa, c'è il problema del bere, c'è il problema dell'alcolico, è una questione delicatissima sulla quale credo che bisogna metterci davvero l'impegno. Voi sapete che la competenza dei trasporti non è comunale ma è regionale, anzi si allontana sempre più dal comune, però è possibile immaginare che ogni volta che si fa un evento si costruiscano anche gli strumenti che lo integrano. Voi sapete che adesso si sta parlando per esempio della festa di Capodanno, è stato fatto il bando, cioè si sta andando verso il bando per quest'anno perché poi non ci sarebbero i tempi. Una delle cose che si è stata detta, bisogna garantire l'accessibilità, ma non l'accessibilità nel senso che chi organizza deve trovare i parcheggi che non ci sono. Bisogna costruire un progetto che tenga dentro anche questo strumento. Innanzitutto parto proprio da questo. È un grande problema che le società partecipate si allontanino dai territori perché sostanzialmente questo vuol dire non avere nessuna voce in capitolo. Secondo me il comune avrebbe dovuto farsi sentire molto di più precedentemente e deve comunque, come comune capoluogo, interloquire con la società dei trasporti. E quindi questo è un problema. Noi pensiamo che dovrebbe esserci una carta per i giovani che gli consenta l'uso dei mezzi pubblici a prezzi adeguati, gli ingressi nei musei gratuiti. E soprattutto vogliamo sentire loro per l'organizzazione di eventi e altre cose perché per noi la partecipazione non è soltanto l'ascolto dei loro desideri e dei loro bisogni, ma è anche coprogettare insieme a loro. Non penso che sia opportuno separare con consulte, penso solo che l'incontro tra generazioni sia l'unico produttivo di creatività. Ho incontrato delle persone importanti dal punto di vista propositivo anche in questo mondo, mi riferisco al mondo delle discoteche, che senza particolarmente impegnarsi come logico che sia in questo momento ci sono dimostrati disponibili a ragionare sulla possibilità di organizzare privatamente dei rientri organizzati, mettiamola così. Poi si tratterà di vedere se questo sarà un tema condiviso che possa portare a una soluzione strutturata, però l'aver trovato a disponibilità mi pare molto incoraggiante e questo tranquillizzerebbe tutti, si tratta di studiare una cosa non facile dal punto di vista dell'impianto. Sul trasporto pubblico devo dire che sono meno disincantato, mi viene bene pensare a quello che dice Celeste, lo condivido, purtroppo credo che dal punto di vista economico i tempi non saranno dei migliori quelli che stanno a venire con la nuova organizzazione e non credo ci saranno le risorse e lo dico anche con dispiacere. Sui luoghi bisognerà utilizzare tutto quello che trovi un buon equilibrio tra chi sente il bisogno di queste cose e chi invece le soffre. Di fatto nel nostro programma c'è proprio un punto che si chiama Disco Bus, non si era pensato a una collaborazione con SPT o con ASF ma si parlava di metterlo in carico a chi sugli eventi ci guadagna perché i giovani rendono anche un sacco di soldi ed è evidente, però al di là di questo il Disco Bus è assolutamente fattibile ed è coordinare il trasporto e non creare proprio un'azienda che lo faccia. Detto questo i giovani li impegni in due modi, quelli un po' più come me con lo sport, quelli un po' più intelligenti di me con la cultura. Incredibile quanti ragazzi si radunino e parlino di poesia, ad esempio io non l'ho mai fatto ma ce ne sono veramente tanti e nello sport semplicemente bisogna sistemare quelle che sono le infrastrutture nella periferia oltre che in centro, in maniera tale che quel policentrismo che pensarono i nostri avi abbia piena attuazione. Tieni i ragazzi nei quartieri, tra di loro fanno sport assieme e c'è realmente un saltare quelle che sono le differenze, e non sto parlando solo del colore della pelle, ma anche di provenienza sociale, ed è un elemento di integrazione e poi giovani, sono io il più giovane qui dentro, quindi anche per me. Ok, l'ultima domanda ce la fa Matteo che ci chiede la pulizia a Como in che modo pensate di intervenire per pulire la città? Sì, nella nostra ricerca effettivamente è un tema che è emerso, è emerso il decoro della città come una delle variabili più importanti, per cui non c'è dubbio che dobbiamo avere un focus su quello e sul miglioramento di quella che è attualmente la gestione dei rifiuti. Ci sono sicuramente delle cose che non vanno, il recuperare rifiuti mentre la gente prende l'aperitivo la sera non va bene, molto però per la verità bisogna riconoscere l'altro fatto, aumentare la sensibilità sulla differenziata e come tale cercare anche di ridurre l'onere della nettezza urbana, ma allo stesso tempo chiedere un miglior servizio, mi sembra che rientri nelle cose di buon senso che devono essere considerate nell'immediato del nostro mandato. Sì, noi quello che manchiamo spesso sul turismo è l'accoglienza, quindi l'accoglienza significa il decoro, significa più verde, più fiori, più giardini in questo senso. E questo serve anche ovviamente per tutti i cittadini, anche per i giovani, purché si rispetti poi ovviamente tutto questo. Ma il passaggio vero, io ho gli esempi di Madrid, per esempio, o Barcellona, dove spesso passano la sera, dopo sono stati centinaia e centinaia di turisti, passano con gli idranti a pulire. Non solo la strada, cosa che in qualche modo viene fatta ogni tanto, ma soprattutto i marciapiedi che spesso invece odorano o puzzano veramente di tutto e su questo voglio dire siamo un po' indietro, dovremmo cercare veramente di fare molto di più e basta veramente poco. In questo senso si può fare molto di più. Ci sono varie forme di decoro e sicuramente per quanto riguarda la pulizia è incredibile che l'azienda che pulisce la nostra città lo faccia anche in altre città e altre città siano molto più pulite della nostra. Una domanda da porsi. Perché succede questo? Tutto nasce da un bando, un bando mal confezionato che ha portato a questi risultati. Ci sono una serie di attenzioni che bisognerà avere e riservare al prossimo bando. Dopodiché il decoro. Il decoro è assolutamente essenziale a partire proprio dall'ordine del decoro. Probabilmente la città va anche liberata da alcune forme indecorose di esercizi abusivi di professione che francamente non sono più tollerabili e anche di mendicanti e di soggetti che veramente fanno sembrare questa città non una città europea ma una città indiana di quelle del degrado. Di conseguenza pulizia dal punto di vista fisico delle strade e ordine e decoro anche in città. Grazie. Sulla raccolta differenziata molto è stato fatto tardivamente perché le giunte di centrodestra precedenti questa non avevano fatto nulla. La raccolta differenziata a Como è iniziata nel 2014 bisogna fare molto di più. Intanto rispetto alla pulizia proprio della città bisogna che la raccolta differenziata venga fatta anche con i cestini differenziati, cosa che per ora non viene assolutamente fatta. Bisognerà rivedere gli orari della raccolta attuali e bisognerà soprattutto fare in modo che la popolazione venga sensibilizzata a diminuire la quantità di immondizia che si produce perché l'unico modo per avere una città pulita è cercare di differenziare veramente tutto. Su questo siamo ancora molto indietro e sono molto indietro soprattutto i ristoratori e i bar che di questo si lamentano per cui moltissime cose che si trovano nei sacchi sono ancora indifferenziati. Quando ciascuno farà bene il suo lavoro e anche il comune farà bene i suoi controlli ci sarà un miglioramento. L'involgimento della popolazione è sensibilizzazione, educazione, partecipazione a rendere la città pulita, compreso la raccolta differenziata. Sono d'accordo. Il grande sogno sarebbe che almeno in certe parti della città si potesse utilizzare il sottoterreno per fare la raccolta invisibile e ci vogliono tanti soldi e lo diciamo perché va detto. Dopodiché mi piace pensare che vengano valorizzate le associazioni. C'è una in particolare che si occupa di andare a pulire i muri, va sostenuta, incoraggiata, gli va dato veramente tanto aiuto per quello che fa, per quello che dimostra e per quello che educa in questa cosa. Dopodiché rispetto delle regole. Io sono un animalista, però anche i proprietari degli animali devono rispettare le loro regole e tutti dobbiamo tenere la città più pulita, crescendo anche sul livello culturale. L'ultima domanda, vi ricordo che avete sempre un minuto, è lo sport a Como. Mancano le strutture, come pensate di intervenire? Argomentone, perché lo sport è una struttura portante di qualunque città che voglia dirsi città attuale e futura. Noi pensiamo che ci siano da fare dei interventi immediati o comunque significativi sugli impianti esistenti. Alcuni proprio non esistono, il palazzetto è la cosa più evidente. È stato in questi giorni proprio annunciato finalmente lo sdoganamento di un progetto che dovrebbe consentire la costruzione del nuovo palazzetto a Como. Viva, viva, perché questa è una cosa importante. Poi ci sono degli argomenti molto più importanti che sono in effetti ancora più importanti, che sono in divenire, che significa lo stadio di Como, comprenderne bene il suo significato, le relazioni col calcio Como che sono tutte in divenire e vedremo quali sono le novità. Noi sicuramente siamo tifosi per avere uno sport fruibile dai cittadini, fruibile dai giovani, dai meno giovani, perché non ha età e non ha censo lo sport. Con la mia esperienza che ho avuto sullo sport facendo l'assessore per cinque anni, devo dire che si devono sicuramente risistemare nei campi di calcio tutti gli spogliatoi. Questo è importante. Le palestre in parte vanno ristrutturate, ricordo che c'è una palestra allo stadio Sinigaglia che andrebbe riutilizzata ed è chiusa da almeno dieci anni. Si può fare molto di più, si deve fare molto di più, però dobbiamo cercare anche di portare molti ragazzi e molti giovani sullo sport, farli provare sostanzialmente altre attività per poterli fare poi scegliere ed è importante soprattutto fare, come posso dire, degli spot per quanto riguarda le strutture che noi abbiamo e che dobbiamo utilizzare ancora di più. E vale a dire la Canottieri, vale a dire per esempio anche la Comonuoto, la piscina coperta, l'Olimpionica, cioè dove abbiamo veramente delle strutture bisogna cominciare a spingere molto di più con organizzazioni di eventi. L'altra parte ovviamente il palazzetto, questo che andrebbe a essere ristrutturato, è una buona notizia. Io insomma ero già favorevole precedentemente. La situazione nella quale ci troviamo oggi è francamente imbarazzante. C'è un ritardo di almeno 20 anni nelle strutture sportive e in verità ci sono anche molti sport che si praticano all'aperto. Vedo molta gente nella nostra città che ad esempio fa del running, corre, abbiamo dei luoghi magnifici dove correre. Ogni tanto lo faccio e ogni tanto mi capita di vedere qualcuno staranzato a terra, perché ci sono delle buche che non puoi neanche correre normalmente. Ci sono delle strutture sportive, francamente chapeau al centro-sinistra e al centro-destra per averle lasciate in queste condizioni, devo dire hanno fatto veramente molto in questi impianti. Come in tutto la soluzione è avere degli amministratori che non abbiano grilli per la testa e che magari pensino alla città. Dopodiché abbiamo un bilancio da oltre 120 milioni, c'è una componente in conto capitale che è di 20 milioni. Quindi secondo me se la smettessero di costruire e fare opere faroniche inutili a destra e a sinistra o a complicarsi la vita, probabilmente oggi non saremmo in questo ritardo. Con calma, con un sistema ponderato di valutazione, si faranno investimenti normali e si ricominciano a investire dove serve, nello sport per esempio. Ma la prima cosa che vorrei fare è ristrutturare tutti gli impianti sportivi che sono impianti sportivi del comune, perché a noi lo sport che interessa di più è quello praticato più dello sport spettacolo e quindi mettere in grado strutture esistenti di funzionare. In questi giorni stiamo girando moltissimo i quartieri, li avevamo girati anche prima negli anni passati, siamo andati proprio l'altro giorno a Monte Olimpino, il campo e il centro sportivo di Monte Olimpino sono in una condizione di abbandono totale e quindi evidentemente bisognerà intervenire. Buonissima notizia il fatto che sarà rifatto il palazzetto di Muggiò, forse se non fosse stato lasciato in queste condizioni si poteva ristrutturarlo invece di buttarlo giù. Ultimissima cosa, anche io penso che bisogna utilizzare anche gli spazi aperti, non solo gli spazi chiusi. inizia per esempio nei prossimi giorni nel giardino di Via Anzani una interessantissima iniziativa che a costi zero, un'associazione che fa ginnastica all'aperto. Tirando al programma perché non si può davvero in un minuto, però ascolto, 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 le associazioni sportive hanno un sacco di idee, sono pronte a organizzarsi molto bene, alcune hanno anche dei finanziamenti per investire su loro stessi, altre sono invece più bisognose di sostegno e in questo senso vanno aiutate tutte. Ci sono come dicevo soluzioni che poi possono andare verso un partenariato anche qui pubblico privato dove però il pubblico non sia quello che viene sfruttato, è solo come il pagatore dei benefici per gli altri. Ci sono delle possibilità importanti per quanto riguarda alcuni sport in particolare. Poi abbiamo tutte le società storiche da valorizzare non solo come percorso sportivo, ma abbiamo da valorizzare soprattutto perché è un investimento sui giovani. Come per la cultura in un caso o nell'altro abbiamo la possibilità di ascoltare e di avere davvero un contributo importante anche di tipo economico in qualche caso. Sentiamo anche lui la sua posizione, però dopo con Rapinese e con Aleotti vediamo di recuperare anche velocissimamente quelle altre domande che abbiamo fatto ai vostri colleghi che sono arrivati in precedenza. Sport innanzitutto, un minuto a disposizione. Prego, 5 Stelle, Fabio Aleotti. Sì, un minuto sport, non riesco neanche a farle l'eleco delle strutture che ci sono a Comu. Sicuramente io ho incontrato nei giorni scorsi le varie associazioni, i campi sportivi, le attrezzature sono lasciate andare, il palazzetto del ghiaccio, spalti non accessibili. Abbiamo quindi il problema di avere un luogo che io frequentavo, andavo il sabato o la domenica a patinare, l'hockey non può avere spettacolo, non può avere pubblico. Con le associazioni abbiamo parlato, per loro non è tanto neanche un bisogno di soldi perché riescono a reperire dei finanziamenti, ma è un discorso di durata delle concessioni, perché loro dicono che se io trovo anche l'investitore, l'investimento, se la concessione è troppo breve io non riesco a rientrare il capitale investito e quindi quello deve diventare il problema e quindi per l'amministrazione dovrebbe essere questo facile. Sicuramente è stato parlato in Montolimpino il mio quartiere, mi è dispiaciuto anche la palestra della scuola massina che per dei lavori fatti sul tetto è stata distrutta. Io voglio cercare di recuperare un po' il tempo perduto anche con voi, se siete bravi vi do due minuti di tempo a te e due minuti all'Andriscina e due minuti a Rapinese per parlare di sicurezza, di giovani e costi della campagna elettorale. I giovani si riallaccia anche al discorso dello sport, per esempio noi vediamo nell'area dello stadio Sinigaglia un polo polifunzionale dove può essere aggregativo per i giovani, quindi concerti, spettacoli, lì già poi sono incentrate diverse attività sportive, si può incentivare quello che è lo sport lacuale, vela, nuoto, canottaggio, quindi lì è un polo effettivamente molto appetibile per i giovani. Bisogna fare qualcosa, i giovani lo chiedono, ho visto un video sul vostro canale dei giovani che appunto parlavano spettacolo, Ticosa, ho visto un giovane che finalmente ha detto come noi, un bel parco alla Ticosa, uno spazio per studiare, quindi ho un ampliamento della biblioteca, ma qualcuno diceva, e quella era una bella idea, uno spazio anche alla Ticosa per poter studiare per i giovani. Bisogna investire sui giovani che sono il futuro della città. Sicurezza, sicurezza, anche quello, rivitalizzare la zona dello stadio, dei parco, quindi se si porta vita, si porta anche sicurezza, perché non dimentichiamo che la maggior parte dei pericoli sono, soprattutto della sicurezza percepita, sono quegli ambienti che non sono vissuti e che sono deserti. Costi, quanto tempo ancora? Quanto ancora? Quanto hai pagato la tua campagna elettorale? Quanto ho pagato? Noi ci autofinanziamo, io penso adesso, non ho il dato aggiornato, ma penso che siamo attorno ai 5.000 euro per adesso. Abbiamo presentato un preventivo di Massima che andava presentato appunto quando sono state presentate le liste, siamo stati ampi perché sapevamo che non si poteva sforare, ma autofinanziandoci siamo a poche migliaia di euro, una campagna fatta da chi si autofinanzia e quindi con i pochi soldi che si reperiscono. Innanzitutto per la campagna elettorale ho depositato un bilancio preventivo come impone la legge di 30.800 euro, verificheremo alla fine quanto avremo speso, il bilancio preventivo può essere, è uno orientativo, lo vedremo. Devo dirti che sono molto soddisfatto della raccolta fondi fatta per mezzo del mandatario elettorale, ho nominato come la legge impone un mandatario, io non ho più il controllo del denaro, essendo il mandatario che liquida le fatture, paga e prende contatti con i fornitori, devo dirti che ho fatto una richiesta tramite email di partecipare ai costi e sono arrivate svariate migliaia di euro tramite bonifici bancari, di conseguenza sono molto soddisfatto e penso che, anzi dall'ultima indagine, mi sembra che abbiamo raccolto più soldi di quelli che avevamo messo a preventivo. Detto questo, quindi bene, vuol dire che qualcuno vuole aiutarci, tutte persone fisiche. Detto questo, per quanto riguarda la sicurezza in questa città, è importantissimo tutto il tema amministrativo, sicuramente molto importante il tema dell'illuminazione, noi abbiamo questo bando scaduto con il sole dal dicembre, la proroga di bando, addirittura scaduta dal 30 dicembre 2016, nessuno ha fatto nulla, sappiamo bene che è una città non illuminata, è una città non sicura, dove c'è buio si può annidare chiunque, dopodiché è chiaro ed evidente che Cuomo è stata una città governata da questo centro-sinistra che ha molto tollerato clandestini, mendicanti di professione, venditori abusivi, sono sotto gli occhi di tutti. Sembra oggi normale poter esercitare in abusivismo il commercio, vendere di tutto, poi però linea durissima con chi sgarra e magari è l'unico momento in cui sgarra. Quindi ricominciare a riequilibrare un attimo quelli che sono gli atteggiamenti in termini di coerenza e per quanto mi riguarda dormirò in piazza del Duomo fino a quando ci sarà un venditore abusivo, un mendicante di professione. Peraltro la legge impone, no certo, dal momento in cui avrò l'incarico, perché io lo faccio già da tempo, però vi garantisco che mi vedrete in piazza del Duomo a evitare questo Cuomo Calcutta. Sì, devo dire che è un'interessante esperienza, la trovo molto interessante, dopo tanti anni forse mi mancava questo passaggio, lo vivo molto tranquillo tutto questo momento, non ho nessun patema d'animo, non ho niente da dimostrare, niente da raggiungere a tutti i costi, penso di aver fatto comunque per tanti anni la mia parte, ci sono tanti invece vedo che devono dimostrare a tutti i costi qualcosa, insomma io in questo momento ho un aplomb dove non me la prendo su niente, mi scivola veramente tutto, qualche attacco, qualche non invito, qualcuno che pensa dopo otto anni di scaricare responsabilità postume a sottoscritto che ovviamente c'entra molto poco, insomma ne sento e ne vedo tutti i colori, rispetto alle opinioni di ciascuno, di tutti, vado avanti per la mia strada che penso sia l'unica cosa vera, seria da poter fare per quello che mi riguarda. Con molta serenità, nel senso che devo dire che mi piacerebbe molto poter eventualmente dare luce e attuare a tutti quelli che sono stati gli emendamenti, gli ordini del giorno disattesi, le interrogazioni che sottendevano azioni, insomma ho depositato oltre mille, mille documenti in questi ultimi dieci anni a Palazzo Cernezi, devo dire che con molta soddisfazione molti sono stati approvati e moltissimi all'unanimità, penso che non ci sia nessun consigliere nella storia di Palazzo Cernezi che abbia visto così tanti documenti propri approvati e questo vuol dire che ci sono stati anche dei momenti di dialogo, su alcuni temi molto importanti non c'è stato. Allora, devo dire che credo che si stia riscuotendo anche un decoroso successo, questo lo vedremo nei prossimi giorni e probabilmente oltre le aspettative. Detto questo, alla fine sto facendo come i miei colleghi del volontariato, perché di certo fare il sindaco di un comune come Como rende dieci volte meno che fare il consigliere regionale e hai un sacco di responsabilità, con molta serenità e vediamo cosa succede il 12. Ci vediamo alla prossima settimana. La campagna è molto impegnativa, però le fatiche vengono assolutamente ripagate dall'entusiasmo che abbiamo intorno. Stiamo facendo una campagna bellissima, molto divertente. Il 3 per esempio faremo un'iniziativa che si chiama Cantata per Celeste, in piazza Martinelli alle 18, amiche e amici hanno deciso di cantare per me e questa è una cosa che dà anche, certamente, purché canti nel coro con voce armonica con gli altri e non fuori dal coro e quindi lo dico per dire che stiamo facendo anche cose molto gradevoli. La sera stessa ci sarà anche Ferrero e naturalmente sarà un momento più politico, però i momenti politici e i confronti che sono frequentissimi e oggi siamo già al secondo e così va avanti da molto tempo sono anche un po' bilanciati dal vedere che tutte queste persone intorno a noi sono molto attive. Si fermo, dai Celeste. Grazie, sì, devo dire che è un'esperienza meravigliosa, molte soddisfazioni, ho conosciuto delle persone molto valide, la nostra squadra in campo, delle persone meravigliose, anche dal punto di vista umano. Devo dire che sono molte soddisfazioni, è un po' dura per chi lavora e si deve poi fare campagna elettorale nel tempo libero, perché con me stasera io purtroppo sono uscito e di corsa sono venuto qua. È dura, ormai siamo nel rush finale, ci metto tutto l'impegno possibile, proprio perché voglio ricambiare quella solidarietà e quell'affetto che ho avuto in questi ultimi tempi dalle persone anche in contratto e per strada. L'unica cosa chiedo però in questi ultimi giorni che ci sia una forma corretta di democrazia nella campagna elettorale, vorrei spezzare una lancia perché abbiamo avuto un incontro ieri in coffe esercenti e sinceramente tutta la mia solidarietà perché non ho ritenuto un'operazione corretta, non invitare la collega Grossi e il collega Scopelliti. Io ritengo che la democrazia sia presentare tutto quello che è il panorama in campo. Grazie, allora noi chiudiamo. Samuel in regia, grazie anche a te. Ovviamente grazie a Marta e a Federico che ci hanno assistito oggi. Sono due giovanistegisti che sono venuti e li abbiamo subito portati in diretta. Grazie anche la prossima settimana ragazzi. Vi aspettiamo per l'appello finale. Grazie a tutti per averci seguito. Con Ciao Como l'appuntamento è giovedì prossimo per l'appello finale con i candidati. Ciao e grazie.